insieme a Pescara del Tronto, Cumoli e Amatrice, i primi comuni che sono stati colpiti dalla scorsa del 24 agosto perché simbolicamente era giusto e bello ripartire da qua. E quindi grazie dell'ospitalità, della collaborazione, perché questi concetti sono stati fatti appunto per la collaborazione dei comuni, dell'ente Parchi, appunto della protezione civile come dicevo prima e quindi due parole giustamente a te. Solo due parole perché non voglio rubare il tempo agli artisti. Il mio è un ringraziamento doveroso, innanzitutto a tutti voi, perché voi siete degli eroi, avete fatto a piedi chilometri e quindi è giusto, ma era giusto che venivate a piedi perché noi mondanari siamo gente dura, lo dimostra il fatto che noi vogliamo superare il terremoto. Questa natura che ha fatto il lavoro però ci ha fatto troppe vittime e quindi è troppo macerie. E quindi quando mi hanno detto l'inizio del primo spettacolo sarà ad Arquata del Tronto, io da una parte ero un po' titubante perché la mia gente qua non c'è più, voi sapete sta tutta o al mare, io ho dovuto fare un'ordinanza di sgombero totale, qua non c'è più un abitante, eccetto quelli che con il permesso che vengono a dar mangiare gli animali o qualcuno, qualche agricoltore. Ma non potevo non dire di no quando mi hanno detto che l'artefice era Marco Re, perché noi Marco Re non è per voi l'artista.